Ho fatto entrare nella mia vita con Pedro Panarotto e mi ha insegnato molte cose. Mi ha insegnato che bisogna fare, ma questo è quello che porta avanti tutto il mondo artigiano. Lui ha insegnato a fare impresa, ha sempre spinto noi a fare più che a Parigi. E' questo, credo che sia l'insegnamento principale che è venuto da Franco Panarotto. Poi ha fatto tante altre cose, ho seguito anche in Etiopola quando sono stati innamorati alla scuola degli stili artigiani. Ed è stato un viaggio molto istruttivo, abbiamo capito che esiste un altro mondo, che nessuno di noi può immaginare se non va là di persona e vede veramente quello che noi vediamo magari alla televisione, in alcuni casi ci sembrano lontani nel tempo, invece sono solo lontani in linea d'aria ma sono attuali ancora oggi.